L'urgenza di agire, ridurre il caro benzina e rimuovere le accise. Sembra una barzelletta. Il caro benzina è un problema che affligge da tempo i cittadini italiani, incidendo negativamente sul bilancio familiare e sulla qualità della vita. Il governo ha promesso di affrontare queste questioni prima delle elezioni, promettendo di ridurre le accise che gravano sul prezzo dei carburanti. Tuttavia, nonostante le promesse, queste misure non sono mai state attuate. È fondamentale sensibilizzare il governo sull'importanza di agire concretamente per ridurre il caro benzina e rimuovere le accise, al fine di allevare il peso economico sulle famiglie e promuovere una mobilità. Il caro benzina rappresenta un onere significativo per le famiglie italiane che devono destinarvi una parte sempre più consistente del proprio reddito. Questo si traduce in una riduzione del potere d'acquisto e in una minore capacità di far fronte ad altre spese essenziali come l'alimentazione o l'istruzione. Inoltre, il caro benzina colpisce in modo particolare le fasce più deboli della popolazione, che non hanno alternative di trasporto e dipendono dai veicoli a motore per raggiungere il lavoro o servizi essenziali. Nonostante le promesse fatte dal governo di ridurre le accise sul carburante, queste misure non sono mai state attuate. Questo ha generato un senso di frustrazione e di mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni, che sembrano non prendere sul serio la difficoltà economica dei cittadini. È fondamentale che il governo si assuma la responsabilità di mantenere le promesse fatte e agire concretamente per ridurre il caro benzina. La riduzione del caro benzina e la rimozione delle accise avrebbero numerosi benefici per la popolazione e per l'intero paese. Innanzitutto, permetterebbero alle famiglie di risparmiare una parte consistente del proprio reddito, che potrebbe essere destinato ad altre spese o investimenti. Per affrontare il problema del caro benzina e delle accise, il governo potrebbe adottare diverse misure. Innanzitutto, potrebbe ridurre le accise sul carburante, alleggerendo così il peso economico sulle famiglie. Inoltre, potrebbe promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi, come il trasporto pubblico o le auto elettriche, altriverso incentivi fiscali o agevolazioni. Infine, potrebbe investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie più efficienti e sostenibili nel settore dei trasporti. Conclusione, il caro benzina rappresenta un problema urgente che richiede l'attenzione e l'azione del governo. È fondamentale sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di ridurre il caro benzina e rimuovere le accise, al fine di alleviare il peso economico sulle famiglie e promuovere una mobilità sostenibile. Solo attraverso misure concrete e un impegno reale sarà possibile garantire un futuro migliore per tutti i cittadini italiani. Buonasera a tutti.